L'impatto tremendo poco dopo le 15, mentre un 85enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, portando a mano la bici e un toserba, che aveva con sé per portarlo ad aggiustare poco distante. A travolgerlo il conducente di una bisarca, che non è riuscito ad evitare l'impatto. L'anziano è stato sbalzato da alcuni metri di distanza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del SUEM, che dopo aver stabilizzato l'anziano, lo hanno trasportato a Caffoncello. La prognosi resta riservata. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere del comune, immagini che saranno al vaglio della polizia giudiziaria. Nel frattempo il traffico lungo la Postumi è andato in tilt. Tra i primi ad arrivare sul posto, il primo cittadino Alberto Cappelletto, che fa un appello a prestare sempre attenzione. È una strada molto trafficata, abbiamo oltre 10.000 veicoli che transitano lungo questa regionale, quindi l'attenzione deve essere sempre massima.